sconfitta dura da digerire per il milan finisce 4 a 3 a firenze gara pazza perché comincia con questo pasticcio di tatarusano e gabbia che condividono l'errore sul primo gol della fiorentina credo che quello sia l'errore più grave della gara perché poi da lì la partita prende una piega sbagliata una piega a sfavore del milan il milan attacca tenta di recuperare il match e poi arriva a fine primo tempo il raddoppio della fiorentina con saponara che quando vede il milan segna sempre la quarta realizzazione in 10 partite contro al contro il milan per l'ex saponara si va a riposo sul 2 a 0 si riapre la partita con il 3 a 0 della fiorentina sembra finita poi c'è la reazione rabbiosa del milan che prima segna un gol con ibra poi ancora il secondo gol di ibra 3 a 2 sembra che la partita si stia per riaprire e lì c'è però un episodio che secondo me condizioni il match ovvero l'uscita dal campo di leao l'unico credo che possa dare in questo momento al milan un cambio di passo un cambio anche di mentalità giocate frizzanti perché leao è stato credo insieme a ibra il migliore in campo del milan poi il pasticcio di teo hernandez ha chiuso il match sul 4 a 2 il milan ha regalato troppe occasioni e ne ha concretizzate poche alla fine poi è arrivato anche il 4 a 3 col colpo di testa di ibra che è sbattuto sul prima sul palo poi sulla gamba del giocatore della fiorentina per il 4 a 3 definitivo prima sconfitta stagionale per il milan in campionato in un momento difficile della stagione purtroppo il milan esce da questo match al franchi senza nemmeno un punto frena bruscamente la corsa verso il titolo verso comunque lo scudetto la corsa scudetto diciamo così con con il napoli che però deve vedersela con l'inter una brutta serata per il risultato probabilmente il milan meritava sicuramente qualcosa in più per quello che ha fatto vedere nell'arco dei 90 minuti ma quando ci sono troppe assenze come in difesa con tomori in porta con megnan guarda caso i due che hanno fatto l'errore sul primo gol della fiorentina alla fine le assenze si pagano troppi pasticci in difesa troppi gol sbagliati in avanti